Conetta. Fiamme nella notte nell'ex stalla di vita a deposito edile in via del Carmine. Il rogo si è allargato in pochi minuti, distruggendo anche due mezzi pesanti. I vigili del fuoco intervenuti tempestivamente sono riusciti a domare le fiamme, non senza difficoltà, anche per la presenza di bombole di GPL nel magazzino. L'incendio avrebbe causato diversi danni, tra cui un camioncino distrutto e un altro mezzo pesante e seriamente danneggiato. Gli accertamenti erano ancora in corso in mattinata per stabilire le cause dell'incendio. Mestre. Dopo aver passato la notte al bar con gli amici, un ventunenne si è accasciato a terra perdendo conoscenza. Immediato l'arrivo del 118, i sanitari hanno capito in breve che il giovane era in overdose da metadone. Ricoverato d'urgenza, col passare delle ore il suo quadro clinico è migliorato. Successivamente è intervenuta anche la polizia, a cui il ventunenne ha riferito di non aver mai fatto uso di droghe. Ecco perché gli agenti stanno indagando. L'unica pista al momento porta una ragazza con la quale il giovane si è appartato la sera prima. Cavallino. Due vigilesse l'hanno multato nel giorno di Pasqua perché aveva parcheggiato l'auto fuori dagli spazi appositi e lui, un 26enne, le ha minacciate danneggiando anche la loro auto staccando lo specchietto. Le vigilesse avrebbero multato anche altre vetture appartenenti alla stessa famiglia che stava pranzando poco distante, motivo per cui in breve tempo attorno a loro si sarebbe formato un nutrito gruppo di persone che protestavano per le multe. Il 26enne però è andato ben oltre, per questo è stato denunciato.